Confesercenti punta il dito sui cantieri per le linee 2 e 3 della tranvia e prende in esame 5 zone sensibili Dalmazia, Statuto Circondaria, Novoli e la Strettoria di Novoli, aree sulle quali, secondo l'Associazione, ancora l'amministrazione comunale non fornisce risposte sufficientemente veloci alle richieste dei commercianti. Abbiamo accolto positivamente questa notizia da parte del Sindaco, distanziamento di 500.000 euro, mi pare, nel bilancio per far fronte a un contributo sulla TIA per le aziende colpite, ma diciamo che questo non è sufficiente. Si chiedono interventi anche minimi, ma necessari, come il miglioramento della segnaletica stradale, la cui mancanza danneggia negozi, sostengono gli esercenti. Ci sta una perdita del 30 o del 40% dei clienti, perché non riescono ad arrivare, non c'è indicazione giusta per arrivare in via circondaria. Io sono qui oggi per questo problema qua. Come sono io, come ristoratore, c'è tutti gli altri, che i ristoratori, che i centri estetici, i fornai, che hanno il solito problema. Altro punto dolente, la riduzione degli spazi di sosta. Siccome si tratta di una situazione straordinaria, noi per ogni zona di quelle più colpite dalle cantieri, è necessario individuare aree e situazioni straordinarie per far fronte alla possibilità delle persone di accedere ai servizi commerciali di quelle aree.